Forze fresche e volti nuovi per Gelbison e Santa Maria Cilento. In vista della stagione calcistica 2023-2024, le società si muovono con destrezza sul mercato per assicurarsi le prestazioni dei giocatori migliori, con lo scopo di formare rose forti che possano dire la loro nei campionati in cui militano. La Gelbison archiviata alla passata stagione sta allestendo un organico che possa ben figurare nella nuova annata sportiva. Dato un taglio netto al vecchio progetto, il duo Puglisi-Pascuccio in poche ore ha piazzato ben sei nuovi acquisti che saranno a disposizione del neoallenatore Alessandro Monticciolo. Si tratta dell'esterno di attacco Saverio Dellino, dei centrocampisti Rocco Casiello, Stefano Manzo e Matteo Montinaro, del difensore Francesco Russo e infine di un ritorno, quello del portiere Francesco Cannizzaro che arriva direttamente dal Santa Maria Cilento. Anche la società giallorossa del presidente Tavassi si sta muovendo attivamente sul mercato. Tra i nuovi arrivi figurano il giovanissimo attaccante Gioacchino Catania, cresciuto nelle giovanili di Palermo e Cagliari e il 28enne Marcos Maidana, centrocampista argentino ex mariglianese.